Ciao a tutti amici di Bain Fishing e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo sempre nel nostro amato mare adriatico e non vediamo l'ora di fare qualche bella cattura. Ci dedichiamo inizialmente a fare un po' di vivo e in particolare a fare una leggera traina costiera. Dopodiché, con l'arrivo delle mangianze di serra, iniziamo a seguirle sperando di poter pescare a spinning e in particolare top water. Buona visione a tutti! Buona visione! 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 Grazie a tutti. 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 No, sono quasi io, però non li vedo più. Eccoli, 50 metri da me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preso. Pesce. Pesce. Bello. Bello. No, vabbè, sarà piccolino, però tira, occhiata, sicuro occhiatona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Orata. Bella. Bella. Sì. Pesce.